È stata la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, insieme alla segretaria generale della Will P dell'Umbria Elisa Leonardi e al segretario generale della Will Maurizio Molinari, a inaugurare il primo ufficio H della Will Pensionati dell'Umbria. Lo spazio è a Ponte San Giovanni, in via Nino Bixio, e si occuperà di offrire servizi di prima assistenza informativa ai cittadini portatori di fragilità e alle loro famiglie. Presso gli sportelli dell'ufficio H si potranno avere informazioni sui diritti dei disabili, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità mensile di frequenza, inserimento nel mondo del lavoro, tutela e agevolazioni sul posto di lavoro, assistenza sanitaria, agevolazioni fiscali, integrazione scolastica, abbattimento delle barriere architettoniche, problemi della mobilità, problemi dell'abitazione. Ad introdurre il segretario Maurizio Molinari, che ha evidenziato l'importanza della capillarità e della presenza sul territorio per l'ascolto. Questa giornata ha un significato importante perché questo ufficio deve diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vivono problemi di disabilità, di fragilità, che è un mondo molto più vasto di quello che può sembrare. Noi siamo qui per cercare di dare risposte, per cercare di ascoltare, per cercare di districare chi ha questi problemi nella vita quotidiana e ce la metteremo tutta. Per me ha un valore incredibile, oggi è il primo taglio di nastro ufficiale che faccio e inaugurare uno spazio così importante in un territorio come quello di Ponte San Giovanni, dove la Will Pensionati decide di aprire un luogo dedicato alla restituzione di informazioni relative ai diritti delle fasce più fragili. Per me è un momento fondamentale, io credo davvero che dobbiamo insieme in rete, istituzioni, sindacati, comunità cercare di ridefinire davvero una città che sappia rimettere al centro le persone e che sappia ripartire anche dai bisogni e dalle necessità dei più fragili.